50.000 mi piace e faremo chi resiste di più in una sauna Balla ragazzi carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi il video è incredibile perché oggi ragazzi siamo qui con una challenge Sia incredibile che molto fredda perché oggi ragazzi con questa piscina vedremo tra poco cosa faremo Intanto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale perché dobbiamo arrivare assolutamente al milione di iscritti Iscrivetevi anche a tutti i canali degli eliz e anche deliz soprattutto Ragazzi venite a vedere già da 2-3 minuti stiamo riempendo questa piscina piena d'acqua e un po' di gremoli di sporcizia Ma vabbè questo non conta perché la piscina sarà ghiacciata Infatti è estate come diceva il mio amico mister anzi mio cugino E' il primo partecipante che vi presento oltre FuseGamer che sarei io Ciao sono Andrea Fusco Mister Spartapraga Mamma mi fa aiuto anche giù fritto un cuolo posta sfida Il secondo partecipante è un altro mio familiare Si chiama Mirko F93 Surur Diciamo che lui visto che suda sempre magari questa challenge gli piace E diciamo che questa è una cosa molto importante Chi resiste di meno nella piscina ghiacciata riceverà una penitenza che vedrete a fine video Quarto partecipante Insta Laza con due finali seguitelo su Instagram ragazzi Si Il ragazzo è molto bello come potete ben vedere Spammati Harry Obbligato su TikTok e vai Il quinto partecipante è veramente un ragazzo che forse si merita gli applausi di tutta l'Emilia Romagna Lui è Omar Amum Viene dalla penna in un quartiere molto sperduto Sono pronto a entrare nella piscina ghiacciata Vedremo Non è freddo Per lui la challenge è molto difficile perché è un tipo molto freddoloso rispetto a Mirko Che è al contrario è molto caldo e suda spesso L'ultimo partecipante il più importante si sta già preparando psicologicamente Guardatelo lì Tatiro 23 Andrea mi sto rilassando Ma sei pronto per questa challenge? Andrea io ho già vinto Perché? Perché sono un grande Quindi questi sono tutti i partecipanti ci sarà anche un malus all'interno della piscina che tra poco vedrete Vabbè già ve lo dico è il ghiaccio in un modo particolare lo metteremo all'interno della piscina Tra poco vedrete Quindi ragazzi via alla sfida Allora abbiamo preparato 10 bottiglie da 10 giorni nel congelatore Guardate come fanno Bene Sto spaccando Il primo ha detto che vuole farlo Omar Allora metto Così mi libero Ok Perché se no vedo gli altri e mi viene paura di farlo Ok Mettiamone una e vediamo che reazione farà o perlomeno se diventerà più fredda Che già È già che diventa più fredda È già ghiacciata eh Ok Vabbè galleggio ovviamente Mamma se è fatta più fredda eh Si sentono i ciocchi si sentono Omar io direi di buttarle in altra Sicuro Andre No perché secondo me Ok Sai qual è lo step che mi fa paura? Che devi temperare un po' così Sì Ari mi devo temperare Sì Ari mi fa un culo Secondo me appena entri stai 10 secondi ti abitui Porca miseria mi sto ghiacciando i piedi Vai vai Omar Veloce Via al tempo vai Via al tempo vai via al tempo Omar Ti piacciono i ghiaccioli Omar Diventerai un ghiacciolo oggi Che gusto vuoi Omar? Allora io c'ho paura per questa challenge Sai qual è il problema? Qual è il problema? Ti giuro mi manca l'aria Omar tu non sei costretto a stare qui Però potrai perdere perché c'è una penitenza a fine video ragazzi ve lo dico eh Ma adesso l'hai detto non vuoi Omar Omar se non vuoi rischiare puoi anche salire Omar Omar mi senti io Che c'è Omar? L'ho ghiacciata raga Ipotermia? Non ho mai fatto una cosa del genere Vedi dei pezzi di ghiaccio che si formano attorno al costume di Omar Per favore cameraman avviciniamoci al caro Maramum Che se vuole può anche salire perché siamo già a 40 secondi ragazzi Ma è incredibile non ho mai fatto una cosa del genere ma non so come cazzo fanno a livello sportivo a fare sta roba Crioterapia Terapia per ghiaccio Va bene ai muscoli questo Antoma dici che non succede niente no? Non succede niente Al massimo rimane lì E aveva vinto lui la challenge Esatto Harry Rimane lì cadaveri dici Harry Va bene non fai la penitenza Om Ok la sto già facendo la penitenza Andrea Già aver partecipato a questo vi c'è la penitenza No no la penitenza è ancora più dura Ci ho provato bene Om Grazie Dai tu me lo dai un bacio Dopo quando esci? Se esce Ma siete pazzi? Che cazzo è la? Il metal detector Aaaaaah Metal detector guardale Ma come tu sei? Dopo quando io devo fare la pipì raga No ma sai cosa non riesco più a capire Aaaaaah La senti la senti Andrei dopo Oh Sento proprio male Ma proprio qui Omar Sento male alle spalle E il sangue fruisce più velocemente Esatto Basta basta Ok Due minuti E venti per Omar Un asciugamano subito Un asciugamano Guardate lì la pelle Madonna Si è decomposta Ma cos'è sta cosa? Ma vado mai fritto Vai giù Ma io la pelle di cinghiale Che sei altra che pelle toca Guardate lì Allora il prossimo concorrente È Talentino Vado Vai vai Lui ci ha detto che Porco due raga È un grande con queste sfide Sì perché è abituato Agli acci della Svizzera Porca troia Più giù Più giù c'è la Porco due Che c'è da ti? Ah Che c'è da ti? No Non mi ho messo sopra Sistra Ok io avevo una pancia immersa E me non mi ha più No Va bene Non è che la costituzione Adesso conta Porca troia Aspetta Aspetta Con le spalle No esatto Non vale Non vale Non vale Fermo Fermo Togli i gomiti ragazzi Si sta poggiando No 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 Vado con le orecchie No Non vai con le orecchie Vedi c'è Dai Non sta soffrendo niente Raga No no Dai Togli i gomiti Non ci fai Non riesco ad andare più Se vai con le orecchie Non vai la challenge Non ti preoccupare Però Henry Queste bottiglie Stanno un po' Riscaldando Secondo me Un'altra città Un'altra città Un'altra città Un'altra città Un'altra città Cosa da me Cioè erano agghiacciate Però appunto No 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 A un certo punto Cioè comunque No ma sei stronzo Io le lascerei aperte No in testa no In testa no No in testa no No in testa no Comunque una cosa Non ho fatto partire il cronometro Ma che cazzo dici Vabbè più o meno A quanto siamo Eh non ho fatto Siamo almeno a un minuto Penso Un'altra Bottiglia ragazzi Esatto Perché più si riscaldano Più bisogna metterne altre Si abitano Si abitano Esatto Comunque sta due minuti Tati E ti mancano 30 secondi Ha preso temperatura Tati Sì Eh ma più che altro Cioè Esatto E che ci posso fare È un deficit questo Cioè per noi È un plus per lui È un plus per lui È un deficit per noi Vabbè per una volta In una sfida Tati Tu hai il tuo plus Vabbè dai Lasciala lì Lasciala qua Lasciala qua Io ho un stomaco d'acciaio Non sento niente Io posso No 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 Eh no 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 Sul cazzo no Allora la faccia Non ho mai visto così concentrato E provato In un video Tati Tati Che dici Basta 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 Tre minuti dai Tre minuti E tre minuti Ti alzi Piano 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 Sensation Tati Vabbè l'inizio è dura Poi ti abituo il corpo Ok Mirko appena sei dentro Faccio partire il cronometro Anche se io sudo spesso Quindi Ho detto questa challenge È bella per te Secondo me qua non sudi Mirko Sei su di qua Sei un caso proprio unico al mondo Clinico In modo gelata E che le ho fatto Lo strep difficile È quello delle palle Ma come cacchio Mirko è un soprano Mirko che c'è Mirko capite Non ce la faccio Vai giù diretto Giù diretto Mirko Mirko Ti manca salire Non c'è la faccia Non c'è la faccia Non c'è la faccia Non c'è la faccia 8 secondi Un record Bravo Mirko Prima Andrea mi smatteva Ma Mirko ti mangia Di qua di là No Ho detto che lui sudando Magari la vince Vado Vado Ma è impossibile Parte il tema Per Eri Laza Che parte subito Lui può rimanere stecchito E Rila Tra poco metti Meno da botteghi Mi piace Nord Eri là E cazzo Buono Nord Ti ti Puro da botteghi Vai compagno Come ti senti Eri Seriamente Ti manca il fiato Bicioma È vero Ti manca il respiro Bisogna proprio entrare No Se entri di botte È peggio Potresti già rialzarti Però io sono un uomo I quinticipiti Pur di soffrire No 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 Aspetta la coscia Ci sta E ovviamente Anche la destra Che è la coscia Più forte Ragazzi Ok Due minuti e trenta Per Eri Lazza Vediamo se è super adattatino Basta 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 Tadio Mi sento bruciare il corpo Adesso Non lo so Appena immergi il corpo Io Avvio Ok Avviato per mister Vediamo subito La sua reazione Se gli mettiamo le bottiglie vicino Che Adesso sembrano essere Bottiglie di frigorifero E non più di Che c'è Anto Qual è il problema Eri ti vuole vendicare Guarda un attimo Che mi riscalzo Quarta bottiglia La facciamo scrollare Anto Hai sentito così Freddo Veramente In vita mia No dai Non l'hai sentito No così no Andri Vai No 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 C'è il regolo Basta 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 2 minuti e 18 Per Miss Spartapraga Per non fare la penitenza Mi basta Superare gli 8 secondi Cioè Incredibile Ragazzi Ma io vado Devo andare a mettere sulla piastra Per sciogliermi Non mi aspettavo Vai giù Vai giù Vai giù Vai 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 Appena senti Freddo Respira profondo Aspetta Fammi respirare profondo Ma è tutta E' partito Per più sgamer Vai Andre Vai Andre Anto fare prima La sensazione Prima degli 8 secondi La sensazione Prima degli 8 secondi Vai Anto Vai 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 Questa è la sensazione Nooo Togliate 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 Quanto siamo? Siamo a 7 secondi Dai un po' di più Andre dai No non ce la faccio Dai io non ce la faccio Ma che cazzo Dai Andre scherzo Sei quasi a 30 Mi sta bruciando il corpo Allora mi sento come se stesse bruciando il corpo Spalle giù Andre Spalle giù Ma non è il problema Il problema è sulle braccia Me le sento bruciare Ma è normale Me le sento bruciare La reazione Andre Pensa No non sto male Sta male Sta male Ok stop Un minuto E 0,3 per Fuse Gamer Mamma mia ancora fredda Quindi Mirko Ti spetta una bella secchiata di ghiaccio Panca in testa Invece della secchiata Posso fare un tuffo qua dentro Buttandomi proprio Dai che ce l'avate cacchio Ok ragazzi Ovviamente prendiamo l'acqua Di questa piscina Ma tutti assieme raga Mi preparo E allora ascoltatemi tutti quanti Aspè aspè Fatemi preparare un secondo Tutto buono Non mi è andato in testa Sti cose Puntare Mirare Fuoco Quindi ragazzi Questo video può finire qui Con Mirko Che sta bestemmiando Ragazzi mi raccomando 50.000 mi piace E faremo chi resiste di più Nella sauna E mi raccomando lasciate Un bel mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Perché dobbiamo arrivare Al minuto di iscritti E noi ci rivecchiamo Nel prossimo video Vada ragazzi Ciao Ciao